Grazie a tutti. 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 Questo in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza. Nello specifico fanno sapere dall'agenzia 564 kg di carne e salumi, 567 kg di latticini, 15 kg di pesce e 156 kg di vegetali. I prodotti sprovvisti di donne a confezione, etichette, certificazione sanitaria sono stati trovati in bagagli di passeggeri provenienti da Cina, Albania, Senegal, Zambia, Russia, Turchia, Brasile, Tunisia e Filippine. Il presidente del Marine Club Alghero, Gianni Kerchi, ha inviato una segnalazione al comune per lamentare l'assenza di illuminazione pubblica nei moli Furesi e Lofrasso al porto. I diportisti che la sera transitano in quelle banchine per accedere alle loro barche rischiano seriamente di cadere in mare con possibili gravi conseguenze per la loro incolumità e responsabilità di natura penale per la mancata messa in sicurezza del sito, segnala l'ex assessore. Ma secondo Kerchi il buio favorisce anche ladri e vandali che ormai da anni imperversano in zona come testimoniato dalle numerose denunce presentate dalle forze dell'ordine all'ufficio circondariale marittimo locale. Nella mancanza di illuminazione induce molti giovani a bivaccare e drogarsi indisturbati, accendendo in banchina con auto e moto, con il rischio di farsi male e soprattutto di investire pedoni che ormai sono in balia di bande di giovinastri delinquenti, arroganti e nulla facenti, favoriti in questo dal fatto che quella ormai è considerata una terra di nessuno, denuncia tra le altre cose Kerchi, chiedendo quindi una risoluzione del problema. Ed ora vi parliamo di un'altra segnalazione che è giunta alla nostra redazione. Le foto che vi mostriamo ora, eccole qui, sono di un cittadino che abita nella via Fratelli Accardo, in una zona ormai densamente abitata che confina anche con la parte finale della via Carrabuffas. Chi ci scrive parla di uno stato di abbandono che va avanti ormai da molti anni, con macchine abbandonate, rifiuti ovunque, escrementi di animali, erbacce e veri propri crateri che non ci permettono. Demettono, denuncia chi scrive, di parcheggiare più le auto senza danneggiarle. Priva di ogni servizio, come luce, marciapiedi e tutto quello che serve per rendere una strada urbanizzata. Il cittadino ci scrive che spera che su questa strada si possa intervenire e chi di competenza possa sistemare uno stato dei luoghi che, come si è potuto vedere dalle foto, non versa certo in buone condizioni. Sin dal primo momento dell'emergenza sanitaria, Poste Italiane si è impegnata per garantire un accesso in sicurezza per i dipendenti e i clienti dei 121 uffici postali della provincia di Sassari. Tra le ultime misure messe in campo in questi giorni per contrastare la diffusione del virus, l'azienda ha avviato un programma di screening con tamponi rapidi che ha già coinvolto, ad oggi, su base volontaria, oltre 70 dipendenti degli uffici postali della provincia. Per individuare in modo precoce eventuali casi di positivi asintomatici al Covid-19 e limitare così il diffondersi del contagio. Lo screening è stato naturalmente steso anche al personale del servizio di recapito e alle professionalità che operano negli staff e nei settori amministrativi, portando il numero complessivo dei camponi effettuati su Sassari e provincia a 163. Oltre allo screening e all'installazione dei termoscanner negli uffici postali del Nord Sardegna, sono in vigore altre misure di sicurezza anti-Covid Poste Italiane. Inoltre è chiesto ai dipendenti che svolgono la loro attività a contatto con il pubblico che abbiano accesso prioritario alla campagna di vaccinazione in corso. Per tutte le informazioni su prenotazioni e altri servizi si può visitare il sito di posteitaliane.it Ed è davvero tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale Ora il Meteo. Come sempre vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon fine settimana.